Siamo ben felici di invitarvi alla mostra La partenza della luna Sala Grigetta di Andrea Pazienza a Foggia Direttamente questa mostra ci parla Sala Grigetta Sala Grigetta Palazzetta 3, 2, 1, vai Siamo ben felici di invitarvi alla mostra La partenza della luna Dal 3 gennaio al 17 avremo il piacere di invitarvi alla nostra mostra Per condividere l'idea dell'amore, degli abbracci che tutti noi abbiamo in quelle occasioni perse Proprio questo è l'invito nella Sala Grigia al Palazzetto dell'Arte a Foggia Direttamente partendo da sabato 3 gennaio alle 18.30 Buona mostra No, non mi è piaciuto No, va bene Da rifare Perché allora l'importante è data e luogo Tu vai al terminello e mezzo Abbracci, saluti, dar gioia, no? No, era giusto per me Infarinare Follato, scusso E no, ma questo Ma io che fai che personalità? Cioè, questo è che la dita Ma io oggi sono un maestro Ma, ma questo è un maestro Con genere Ah, qui di sonno la date vi dà A scoglio Ma qui si è importante A scoglio Palazzo dell'Arte a Foggia Dal 3 al 17 gennaio Vi aspettiamo Vai, vai e è morto